che continua a tirare non benissimo ma quantomeno avendo stretto dietro ha trovato il parziale effimero vantaggio sul 5-3 Corcelli da tre punti di fare tanti tiri da tre punti per adesso non è andata come voleva anche in questo caso prova a correre li avevo chiamati 0 su 2 per i fari diciamo così dell'attacco Janus c'è Fatti in punta che si prende la tripla Biancorossi vedremo adesso Imola se Bravo nel frattempo Ranuzzi che prova a scardinare centralmente Ranuzzi segna contro piede 3 contro 2 Andrea Costa in angolo Marangoni ci prova ancora da tre corta la conclusione bel piazzamento da parte di Berdino in mano sinistra in serie A2 dunque cavallo di ritorno per gli ospiti Tognacci si arresta e tira difficile Tognacci 40 Imola mantiene un misero punticino avanti Faffi se la gioca contro Verri decide di buttarsi dentro bel canes da un paio di minuti sul 61-58 vantaggio ospite della Janus Risto Profabriano Ranuzzi da tre per pareggiarla 63 Imola avrà certamente due possessi vediamo un po' si alza Tognacci morbidissimo 30 in più alto di Fall terza occasione per Imola sul 61 pari ci prova Restelli da tre da tre Glorzzi da tre Grazie.